Oggi il Consiglio regionale ha fatto un buon lavoro per l'Abruzzo, è accaduto che il Consiglio abbia approvato all'unanimità un progetto di legge, cosa che accade non molto spesso, perché c'è stato un vero confronto e perché oggi si votava per valorizzare le eccellenze. Da un lato il campus di Nico Romito, uno straordinario professionista che sta portando la cucina abruzzese in giro per il mondo, dall'altro grazie a un emendamento a mia prima firma ma poi firmato e quindi condiviso e votato da tutto il Consiglio regionale, un emendamento che stanzia 500 mila Euro per il Comune di Villa Santa Maria e in particolare per l'Istituto Alberghiero che ha oramai una tradizione centenaria, forse non è conosciuto universalmente come Nico Romito ma ha fatto altrettanto un lavoro straordinario per la nostra regione, ha esportato cuochi in tutto il mondo e ha contribuito quindi anch'esso negli anni, nei decenni a valorizzare l'Abruzzo nel mondo. Per questo lo finanziamo per effettuare sia dei lavori di ristrutturazione e di implementazione delle cucine e anche nuovi corsi, soprattutto anche dedicati ai ragazzi.